Eccoci qua! Allora, oggi vediamo insieme che cos'è Microsoft Teams e quali sono le possibilità che questo strumento della suite di Microsoft 365 ci porta in azienda nella nostra vita quotidiana. Quindi vedremo tutte le opzioni, vedremo il layout, vedremo anche, parleremo di qualche caso d'uso per l'utilizzo di questo strumento che è sicuramente lo strumento principe per quanto riguarda appunto le funzionalità di collaborazione che offre la suite Microsoft 365, la suite di collaborazione cloud che ci offre Microsoft. Quindi iniziamo a rispondere a quella che è la prima domanda, quindi che cos'è Microsoft Teams? Microsoft Teams è un'applicazione che possiamo sia installare nel nostro computer, sia la possiamo utilizzare tramite un browser, oppure la possiamo installare anche all'interno dei nostri dispositivi mobili che ci permette di fare collaborazione. Possiamo collaborazione, possiamo chattare con un nostro collega all'interno dell'azienda, possiamo collaborare con più dei nostri colleghi, magari in un progetto, oppure possiamo condividere file, lavorarci in tempo reale, possiamo accedere anche ai nostri file privati, gestire il calendario e veramente tante tante altre cose. Teams fondamentalmente va visto come proprio il punto di entrata verso tutti gli strumenti che la suite Microsoft 365 ci mette a disposizione. E sì perché fa proprio questo, oltre alle funzionalità di base, io posso accedere anche a tantissimi degli altri strumenti della suite Microsoft 365. Spostiamoci adesso velocemente all'interno del mio desktop e iniziamo a vedere insieme le prime funzionalità. Volevo iniziare parlandovi di quella che è l'interfaccia utente di Microsoft Teams. Teams ha la medesima interfaccia sia sul web, quindi sia se sto utilizzando come me in questo caso un browser, un browser moderno per accedere allo strumento, sia se lo sto utilizzando come un'applicazione desktop, quindi installata all'interno del mio PC. L'interfaccia è esattamente la stessa. Per quanto riguarda invece l'applicazione mobile, ovviamente per ovvie ragioni abbiamo un'interfaccia diversa, perché lo spazio è poco purtroppo. L'interfaccia di Teams è fatta in questo modo. Allora, in alto c'è la barra dei comandi, fondamentalmente, c'è una ricerca, poi vi spiego le possibilità che ci dà questa ricerca. In alto a destra ci sono le possibilità per accedere al mio profilo o alle impostazioni dell'applicazione. E in più, in alto a sinistra, questo solo nella versione web, c'è la possibilità di accedere a quello che è il menu che mi permette di spostarmi tra quelle che sono le altre applicazioni presenti all'interno di Microsoft 365. Non è il mio caso perché io voglio rimanere in Teams. Poi, sulla parte sinistra c'è la barra di navigazione. Si può accedere a quelle che sono le funzionalità principali di Microsoft Teams tramite questa barra di navigazione che vedete qui sulla sinistra e possiamo anche aggiungere delle applicazioni personalizzate all'interno di questa barra. È fondamentalmente la navigazione principale, non possiamo sbagliarci. La navigazione principale è fatta da un'icona per le attività e il feed delle attività di cui parliamo a breve. Poi c'è l'icona per fare le chat private, c'è l'icona per accedere ai gruppi, c'è l'icona per accedere al proprio calendario e poi c'è l'icona per accedere ai file e alle chiamate. Le chiamate non sempre le avete abilitate, dopo vi spiego anche il perché. Quassù, vedete, c'è un'icona che normalmente non c'è, questa c'è solo all'interno del mio environment ed è un accesso diretto a quella che può essere una internet aziendale. In questo caso non contatela. Partiamo dalle funzionalità di base di Microsoft Teams. All'interno di quella che è invece l'area di contenuto di Microsoft Teams, che è questa qua, troviamo il layout diviso in due parti. C'è sempre una parte di sinistra che mi permette di effettuare una sorta di sottonavigazione di quello che è il contenuto che ho aperto, come in questo caso sono all'interno dell'area chat, vedo tutte le chat che ho aperte, mentre invece sulla destra ho esattamente tutto quello che è l'area che mi permette di interagire con le funzionalità e i contenuti che andremo a utilizzare all'interno dei Teams. Poi, vi dicevo, in alto a destra c'è l'area per accedere al mio profilo utente e soprattutto l'area per accedere ai settings dell'applicazione. Vedremo anche questi durante il corso del video, non vi preoccupate. La barra di ricerca in questo layout è sicuramente una cosa molto importante e ci permette di fare diverse cose. Posso fare ricerche di messaggi, posso ricercare una persona all'interno dell'azienda per aprire una nuova chat, oppure ci sono una lista di comandi che mi permettono di fare alcune automazioni. Questa è una parte un po' più dettagliata che magari vedremo in qualche altro video. Se invece guardiamo nella parte bassa della pagina, troviamo l'icona per l'help online, quindi la documentazione di Microsoft Teams che ci spiega, che ci dà Microsoft, che ci spiega come utilizzare lo strumento, funzionalità per funzionalità, e poi l'accesso alle applicazioni che possono essere utilizzate sempre all'interno dei Teams. Teams, da questo punto di vista, è veramente molto particolare. Io lo chiamo il grande collettore. Fondamentalmente in Teams io posso sia usare le funzionalità di cui vi ho appena parlato, molto velocemente, queste che abbiamo visto sulla sinistra, sia posso usare applicazioni che fa Microsoft, sempre nella suite Microsoft 365, oppure applicazioni che vengono fatti da aziende di terze parti, però fruirle sempre all'interno dello stesso contesto di navigazione. Quindi io uso Teams per quasi tutto. Perché ho detto quasi? Perché vedrete poi, vi accorgerete, che rispetto a quella che è l'operatività che normalmente si fa durante il giorno lavorativo, manca una cosa molto importante all'interno di Teams, che è l'accesso alla propria posta elettronica. Purtroppo ancora, questa è una cosa che chiedono a gran voce da tutto il mondo, su Teams si possono fare veramente miliardi di cose, si può accedere al proprio calendario, si può accedere ai propri file, ma non alla posta elettronica. Ovviamente poi conoscerete Teams anche per le sue funzionalità di chiamate audio-video. Infatti io tramite Teams posso sia fare delle chiamate con una o più persone, sia organizzare dei meeting online, in cui condividere la webcam, condividere lo schermo, condividere specifiche presentazioni, condividere file e così via. Queste funzionalità di meeting oggi non le vediamo, vi consiglio però di andare all'interno del sito office365italia.com dove potete trovare il corso completo di Microsoft Teams a un costo bassissimo, molto accessibile per chiunque, che vi spiega tutte queste funzionalità con degli esempi grafici. Ok? Benissimo. Passiamo al prossimo argomento, e parliamo del feed delle attività. Il feed delle attività è fondamentalmente l'area, la prima icona che troviamo in alto a sinistra nella mia interfaccia di Teams in cui posso trovare tutte quelle che sono le novità, le notifiche che Teams mi invia. Eh sì, perché Teams, come vi dicevo, fa tante cose e mi permette di avere un punto unico dove trovare tutte le novità che sono state fatte, magari su un gruppo a cui appartengo, magari in una chat con più persone sono stato citato, allora Teams mi porta l'attenzione che c'è, diciamo, un contenuto proprio per me. In aggiunta, come in questo caso, vedete, il feed delle attività mi permette di ricevere anche informazioni da applicazioni esterne. Questa è la mia intranet che mi dice che è stato pubblicato un evento all'interno del calendario aziendale. Ok? E però, per esempio, vedo anche la notifica che mi dice che sono stato aggiunto ad un gruppo. Il feed delle notifiche è molto bello perché se clicco sulla notifica riesco ad accedere immediatamente al contenuto relativo a quella notifica. E questa è una funzionalità veramente molto, molto, molto utile perché sempre senza cambiare quello che è il mio contesto di navigazione io riesco subito ad accedere al contenuto che Teams mi ha notificato. Ok? Adesso qui non ho altre notifiche di questo tipo da farvi vedere, sono tutti test, purtroppo, però il concetto è questo qui. Clicco sulla notifica e accedo subito all'interfaccia che contiene il contenuto che mi è stato notificato. Molto, molto utile. Questo feed lo posso, diciamo, ricercare. Se mi ricordo di aver ricevuto una notifica da Teams e magari è stata sommersa da tante altre notifiche le posso ricercare. Oppure posso far sì di vedere non solo il feed ma quello che sono state le mie attività più recenti. Adesso ne avevo solo una legata a una chat fatta un po' di giorni fa. Molto, molto utile il feed delle attività per rimanere aggiornati quando si fa un uso intensivo di Microsoft Teams durante la giornata. Passiamo poi al prossimo argomento. Volevo parlarvi della chat privata. La chat privata è sicuramente una delle funzionalità più utili di Microsoft Teams. Con chat privata intendo la possibilità di aprire questa icona qui ricercare magari una persona all'interno della mia azienda in questo caso ho cercato Olivia e iniziare una nuova chat con lei in tempo reale. Teams va a sostituire in azienda quello che era Skype for Business fondamentalmente per la parte di conversazione. Le principali differenze che ho con Skype for Business che sono un po' le funzionalità diciamo top di Microsoft Teams per quanto riguarda la conversazione sono principalmente tre. Io vedo innanzitutto in quest'area che vedete qui sulla destra tutta quella che è la storia della conversazione che io ho avuto in questo caso con Olivia. Uno dei problemi di Skype for Business è sempre stato quello di avere le chat a finestra e quando chiudevo la finestra la chat fondamentalmente spariva. è vero che veniva salvata all'interno della mia mail è vero che andando nelle history potevo recuperare pezzi di queste chat però era un'esperienza molto molto complicata. In questo caso invece io vedo tutto quello che mi sono scambiato con la persona vita natural durante che è una funzionalità ovviamente un passo avanti rispetto a quello che si è sempre utilizzato in ambito aziendale con Skype o Skype for Business. All'interno poi di questa di quest'area posso anche vedere tutti i file che mi sono scambiato con questa persona e questa è una cosa molto molto utile perché risolve il problema che c'è sempre stato con qualsiasi strumento di messaggistica che era dato dal fatto che quando magari ricevevo un documento da un mio collega tendevo a salvare questo documento o questo file magari in una delle mie cartelle personali o comunque in una cartella di progetto e una settimana dopo dieci giorni dopo che volevo riprendere quel file non mi ricordavo dove l'avevo messo e quindi facevo fatica a ritrovarlo. Questo è diciamo un caso comune che è capitato anche a me non so quante volte però con questa nuova funzionalità Microsoft Teams ci dà la possibilità invece di evitare queste ricerche perché all'interno del tab files io vedo tutti i file che sono stati scambiati con la mia collega in questo caso. In più ho una tab molto carino che mi permette di vedere la mia collega dove sta all'interno della struttura aziendare all'interno di quello che appunto può essere un organigramma che mi permette di vedere la relazione capo sottoposti che abbiamo in azienda. Come vedete io ho fatto click sul tab organization e mi è stato evidenziato Olivia che è sotto il CFO aziendale che a sua volta è sotto l'amministratore delegato. Ok? Questa è la visualizzazione dell'organigramma che è presente all'interno di Teams. se non la vedete dovete chiedere al vostro amministratore perché non deve tanto essere abilitata ma la vostra directory all'interno di Microsoft 365 deve contenere questa relazione cioè sull'utente Olivia deve esserci scritto che il suo capo è Bastian in questo caso. Altre funzionalità molto carine come avete visto è che se vado sopra all'interno di uno di questi box dell'utente mi si apre una sorta di card che rappresenta appunto le informazioni di questa persona con in più delle quick action posso mandargli un messaggio rapido che non è il caso perché io stavo già parlando con Olivia in una chat privata ma posso farlo molto velocemente con Francesca posso vedere il suo ruolo posso vedere il suo dipartimento posso chiamarlo e poi posso anche aprire una chiamata audio o video e queste sono le azioni rapide che ci sono nella card utente di Microsoft Teams attenzione che questa card è sempre visibile anche in altre delle vostre applicazioni pensate per esempio all'interno di Outlook vedete una card molto molto simile oppure anche all'interno di SharePoint Online all'interno della vostra intranet un'altra funzionalità ovviamente diciamo base di Microsoft Teams è quella partendo da una chat privata di come vi dicevo prima far partire una chiamata audio video in questo caso Teams cerca di chiamare appunto con il microfono oppure se accendete anche la telecamera anche con la telecamera di chiamare quest'utente per farvi fluire di quella che è l'esperienza di una chiamata in tempo reale in più su una chat che è una chat privata ho la possibilità anche di fare click su questa iconcina e trasformare quella che è una chat privata in una chat di gruppo in questo caso io invito nella chat che ho con Olivia invito anche Anna la aggiungo alla mia chat e in questo caso vedete viene creata una nuova chat che però è una chat di gruppo è una chat dove ci sono sia Anna che Olivia e vedete che prende proprio una nuova riga all'interno della mia navigazione delle chat private fondamentalmente cosa è successo è stata cancellata o più o meno è stata messa da parte quella che è stata la conversazione che ho avuto con Olivia ed è stata aperta una conversazione completamente nuova con entrambi gli utenti quindi non vi preoccupate se decidete di aprire una nuova chat di gruppo partendo da una chat con una singola persona non vi preoccupate che quello che vi siete scritti non verrà riportato anche all'interno della chat di gruppo la chat è proprio completamente nuova non c'è storia di niente e di nulla anche all'interno delle chat private c'è il tab files non c'è il tab organization perché ovviamente ho più persone quindi non saprei diciamo quale punto dell'organigramma guardare e anche in questo caso io posso fare delle chiamate audio o video di gruppo e questa è una funzionalità molto molto semplice e molto facile da utilizzare in basso poi ho l'area dove posso inviare i miei messaggi vedete mi dice proprio parti con un nuovo messaggio scrivo il mio messaggio in questo momento vengono notificate entrambe le persone perché fanno parte di una chat di una chat privata e quindi loro possono continuare con la discussione una funzionalità molto utile all'interno della chat è quella delle menzioni le menzioni servono ad attirare l'attenzione di una persona all'interno di una chat di gruppo come in questo caso quindi io posso dire come stai Anna e una menzione si fa selezionando la chiocciola all'interno tramite la vostra tastiera se selezionate la chiocciola vedete che Teams ti dà dei suggerimenti delle persone che ci possono menzionare e questi suggerimenti sono sempre contestuali in questo caso io ho il suggerimento solo sul nome di Anna e sul nome di Olivia non ho altri suggerimenti delle altre persone che ci sono magari all'interno della mia azienda perché non fanno parte della mia chat di gruppo in questo caso quindi posso scegliere Anna o col mouse o anche con il tasto invio e vedete che il suo nome è stato evidenziato in violetto questo fa sì che Anna quando io mando questo messaggio riceve una notifica con più evidenza questa notifica finirà all'interno dell'area activity che vi ho spiegato poco fa le menzioni sono molto carine perché oltre a inserire proprio il nome e cognome della persona una volta che ho specificato la persona che voglio menzionare con il tasto backspace posso magari cancellare il cognome e quindi mandare un messaggio magari un po' più user friendly un po' più amichevole senza utilizzare il cognome benissimo all'interno di una chat privata posso poi fare click su questo più e entrare in quella che è l'esperienza di aggiunta di un contenuto all'interno della mia chat di gruppo un contenuto che cosa significa proprio aggiungere magari un file magari l'accesso rapido a un'altra applicazione o magari l'accesso rapido a un sito una reportistica un file pdf quello che volete potete trovare all'interno di questa esperienza tutte le applicazioni che microsoft teams supporta per essere inserite all'interno di una chat di gruppo in questo caso vedete in alto le applicazioni che sono parte della suite microsoft 365 e in basso vedete altre tantissime applicazioni che sono fatte da vendor di terze parti che però si integrano con microsoft teams per darvi funzionalità aggiuntive che teams non ha funzionalità che possono essere sfruttate durante la vostra chat di gruppo adesso passiamo a quello che è il prossimo argomento di cui vi volevo parlare e vi volevo parlare delle aree di gruppo ok l'area di gruppo l'area di gruppo è una delle funzionalità fondamentalmente più importanti più utili per quanto riguarda la collaborazione tramite microsoft teams vediamo vediamo bene di che cosa si tratta andiamo all'interno dell'area teams in quest'area trovo tutti i gruppi in cui sono stato invitato ok un gruppo che cos'è è fondamentalmente un'area virtuale in cui io posso conversare con i membri che fanno parte con me di questo gruppo posso archiviare dei file in un punto unico e quindi dove tutti i membri del gruppo hanno accesso e in più posso aggiungere contenuti comunque che sono sempre utili ai miei colleghi ai miei membri del gruppo ok ogni gruppo è diviso in canali ogni canale può contenere contenuti diversi in questo caso quando creo un nuovo canale proprio riparto da zero sia per quanto riguarda la conversazione sia per quanto riguarda l'archiviazione dei file proviamo a vedere insieme la l'esperienza di creazione di un nuovo gruppo posso creare un nuovo gruppo facendo clic qua giù in basso in questo bottone qui che mi serve appunto per creare un gruppo nuovo oppure per entrare in un gruppo che magari è privato e a cui non ho accesso quindi ho accesso solo tramite un codice adesso vi spiego bene la differenza tra un gruppo privato e un gruppo pubblico perché la vediamo all'interno dell'esperienza di creazione di un nuovo gruppo faccio clic su create team lui mi chiede innanzitutto se voglio creare un gruppo da zero oppure voglio creare magari un gruppo teams partendo da un gruppo office 365 che è già presente all'interno della mia organizzazione questa è un'opzione che è questa qui qui a destra che è un po' più avanzata e che però vi permette di sfruttare dei gruppi che magari il vostro amministratore ha già creato e che non vedete in teams quindi se sapete di appartenere a un gruppo microsoft 365 ma non lo vedete in teams quella è l'opzione da scegliere in più io posso creare anche un gruppo partendo da uno dei template che sono disponibili da parte di microsoft per diciamo la collaborazione c'è il template per gestire un progetto c'è il template per gestire un evento per fare l'onboarding di un dipendente all'interno dell'organizzazione per gestire l'help desk ovviamente sono tutti degli esempi e sono degli esempi di teams che vengono preconfigurati con delle applicazioni per far sì di gestire particolari casi d'uso partiamo però da zero quindi io voglio creare un nuovo gruppo quando creo un nuovo gruppo mi vengono fuori fondamentalmente due opzioni io ne vedo tre perché sono amministratore di microsoft 365 quindi partiamo dalla base il gruppo privato è un gruppo dove solamente le persone che hanno accesso al team possono vedere solamente i membri del team i membri del gruppo trovano questo gruppo magari nelle ricerche oppure nella loro area di navigazione sulla sinistra nell'interfaccia di teams un gruppo pubblico invece è un gruppo che tutti trovano nelle ricerche e in cui tutti possono accedere se pensiamo due casi d'uso il gruppo privato è un gruppo che magari è perfettamente utile per gestire un progetto per collaborare in un progetto un gruppo pubblico invece può essere utile per prendere feedback da tutti i dipendenti all'interno dell'azienda per far ricevere delle richieste di supporto e così via quindi un'area in cui tutti possono accedere il terzo gruppo che vedete qui è un gruppo che si chiama organization wide che può essere creato solo dagli amministratori di teams o di microsoft 365 e che è un gruppo in cui fondamentalmente vengono inseriti in maniera automatica tutte le persone che lavorano in azienda tutte le persone che hanno un account all'interno di microsoft 365 e questa è una differenza ovviamente molto importante perché nelle prime due tipologie di gruppi chi crea il gruppo è l'owner del gruppo e quindi ha l'onere di gestire i membri quindi aggiungere o togliere persone all'interno di questo gruppo creiamo un gruppo privato subito dopo teams mi chiede di inserire un nome e io lo chiamo il mio nuovo gruppo posso anche inserire una descrizione questa descrizione viene visualizzata all'interno dell'interfaccia dei teams e posso fare clic su crea il clic su crea inizia proprio a creare il mio team è la creazione molto veloce come avete visto subito dopo posso iniziare a dire quali sono i colleghi con cui io voglio collaborare all'interno del mio gruppo inserisco la mia cara collega Anna inserisco anche la collega Olivia ecco qua e faccio clic su add fin quando non faccio clic su add queste persone non ricevono nessuna notifica quando faccio clic su add ricevono una notifica all'interno dell'area attività un po' come quella che avete visto prima e in aggiunta ricevono anche un messaggio email un messaggio email che gli indica che io gli ho aggiunti all'interno del gruppo il mio nuovo gruppo perché l'ho chiamato così in questo momento posso scegliere se Olivia e Anna le mie colleghe sono dei membri normali del mio gruppo oppure se sono degli owner come me in questo caso avere più owner mi serve per gestire un po' meglio il gruppo perché ovviamente l'owner rispetto a un membro ha più funzionalità ok in questo caso vi lascio come sono stati configurati ovviamente su questa X io posso anche decidere di togliere la persona dai membri del mio gruppo e in questo caso non riceverà alcun tipo di notifica benissimo faccio clic su close ed ecco quella che è l'esperienza e l'interfaccia di default di un gruppo di collaborazione su Microsoft Teams vedete che abbiamo un tab chiamato posts e in questo caso trovo all'interno di questo tab tutta la conversazione che viene fatta dai membri del gruppo Teams vita natural durante questa è una chat molto simile alla chat di gruppo anzi direi praticamente uguale dove possono interagire tutte le persone che sono membri del nostro gruppo ovviamente rispetto alla chat di gruppo in cui ho esattamente le medesime funzionalità per quanto riguarda la conversazione ho in più funzionalità invece di collaborazione con un gruppo di persone che adesso vediamo il secondo tab è il tab files all'interno di questo tab io ho la possibilità di archiviare dei file e una volta archiviati questi file sono fondamentalmente disponibili per tutte le persone che partecipano al mio gruppo o anche che parteciperanno infatti questa cosa di avere un gruppo un'area su Teams in cui inserire conversazioni o file è una cosa fantastica soprattutto quando dobbiamo introdurre magari in un progetto in corso in un'iniziativa o in un dipartimento una nuova persona pensate a come era prima dell'arrivo di Teams e dei tool simili a Teams quando arrivavano nuove persone in azienda era molto difficile fargli vedere il pregresso di un progetto in corso perché molto spesso i progetti venivano gestiti solo via mail e magari salvando qualche file all'interno di una cartella di rete e quindi pensate la difficoltà nell'inoltrare tutte le mail a una persona che entrava a progetto in corso era praticamente infattibile in questo caso invece nell'area posts e nell'area file io vedo da una parte tutte le conversazioni che sono state fatte dal team di progetto e dall'altra tutti i file che sono stati condivisi durante il corso del progetto avete visto prima che quando ho fatto clic su files il gruppo si stava configurando quindi ancora l'area files non era disponibile ma uscendo e rientrando all'interno di quest'area vedo poi tutte le funzionalità che sono disponibili per la archiviazione di file e documenti e per la collaborazione posso infatti creare nuovi documenti posso creare nuove cartelle e nuovi documenti li posso creare sfruttando una delle applicazioni web che del pacchetto office online che mi permettono di creare un documento word di creare un powerpoint partendo da zero fondamentalmente posso fare upload di file o di cartelle presi dal mio computer ecco qua che in questo caso faccio l'upload di un file word che era presente all'interno del mio computer nell'area documenti oppure posso decidere di sincronizzare questo elenco di documenti che adesso contiene un singolo documento sincronizzarlo sul mio pc ok questo è una funzionalità che ci dà a disposizione OneDrive il client che io ho installato all'interno del mio computer quando ho iniziato a lavorare con Microsoft 365 in più ho la possibilità di scaricare un file scaricare l'elenco dei file e infine aprire la stessa la stessa lista di file la stessa lista di documenti all'interno di SharePoint e voi qui direte Urca che cos'è sta roba adesso io sto lavorando su Teams e tu mi fai aprire SharePoint SharePoint è sempre stato visto come un documentale oppure per le intranet cosa si azzeccano l'uno con l'altro bene dovete sapere che sotto ogni gruppo Teams c'è sempre un sito SharePoint dove vengono salvati tutti i file che noi inseriamo o creiamo all'interno del tab files e in più c'è anche una mailbox condivisa per il gruppo che vi permette di inviare dei messaggi email e far sì che questi messaggi diventino delle conversazioni in più c'è anche la possibilità di utilizzare planner per la gestione delle attività di progetto one note per le note di riunione o per qualsiasi altra informazione che volete salvare all'interno di questo tool e che non trova la normale locazione all'interno di un documento di progetto o di dipartimento o comunque dell'iniziativa che state gestendo con questo gruppo Teams facendo clic qua su apri su SharePoint io vedo esattamente lo stesso contenuto in termini di file e documenti che vedevo su Microsoft Teams ok eccolo qui il mio file di test la cosa molto importante che dovete capire è che il file di test che avevo prima nella mia cartella documenti del mio pc è ormai diventato una copia una copia tra l'altro obsoleta di questo file perché dico obsoleta perché il file che ho inserito all'interno di quest'area può essere aperto facendo clic direttamente tramite Teams e chiunque dei membri del mio gruppo può fare la stessa attività cioè aprire il file ma soprattutto può modificarlo ogni file che noi mettiamo all'interno di Teams può essere modificato cancellato da qualsiasi dei membri del nostro gruppo questa è un'informazione molto molto utile vedete che io sono già nella nella fase di edit del mio documento e quindi posso fare una modifica ok c'è anche la possibilità di restringere questi permessi però è necessario accedere a SharePoint e fare un po' di passi un po' più avanzati per cui vi rimando al corso su office365italia.com benissimo ho fatto la modifica posso decidere anche di interrompere questa modifica e magari andare in modalità di revisione oppure interrompere questa modifica e aprire il mio file con Word installato sul mio PC quello che state vedendo è una versione particolare di Word Online che è una delle applicazioni web della suite Office Online che vi permettono di modificare documenti di test documenti Word tramite il vostro browser e su Teams accade la stessa cosa Teams fondamentalmente è una sorta di di finestra sugli altri strumenti di Microsoft 365 o su strumenti di terze parti quelle famose applicazioni di cui vi parlavo prima benissimo un'altra delle funzionalità molto 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 importanti di Teams e della sua le sue capabilities di collaborazione è il fatto di poter allegare a un documento una conversazione vediamo come faccio clic su conversation qui in alta destra lui mi dice inizia una conversazione su questo documento e io posso taggare Anna che mi viene tra i suggerimenti delle menzioni di Teams perché appunto è uno dei membri del mio gruppo e chiederle ciao puoi fare una review del mio documento ho modificato la pagina uno e in questo modo allego appunto una conversazione a quello che è invece un file che viene condiviso all'interno del gruppo funzionalità veramente molto molto utile per tracciare quello che è diciamo il commento quello che è stata non so la modifica oppure per avvisare un mio collega di progetto di dipartimento che ho fatto alcune modifiche veramente veramente fantastico chiudo chiudo il mio file quindi esco dalla modalità di modifica del mio file in microsoft teams si salva ovviamente chiunque fa modifiche di questo file si salva tutte le date e i minuti in cui è stata fatta una modifica e in più si salva anche tutta quella che è la storia delle modifiche che sono state fatte su questo file non lo vediamo da qui ma in questo caso devo aprire l'area su sharepoint per la visualizzazione di questi file se vedete nei tre puntini ho un menu un po' più avanzato quindi con più funzionalità in cui trovo la possibilità di vedere la cronologia di tutte le versioni che sono state fatte di questo file una versione che cos'è è una modifica al file precedente io vedo due versioni la prima è il file che ho caricato la seconda è il file che ho modificato e su queste versioni posso anche decidere sia di visualizzare quella che è la versione precedente sia di ripristinarla funzionalità veramente molto utile per evitare la perdita di dati all'interno dell'azienda ritorniamo all'interno del mio del mio gruppo teams per andare avanti con le funzionalità il terzo tab che viene creato di default all'interno di microsoft teams è il tab wiki il tab wiki non so se conoscete ma sicuramente lo saprete è wikipedia wikipedia è lo storico sito in cui tutte le persone possono collaborare e creare queste pagine di informazioni qui microsoft ha usato la funzionalità wiki che è comunque una funzionalità che è presente su internet da tantissimo tempo per dare la possibilità all'interno del gruppo di inserire note quindi io posso creare una nuova pagina in questo caso la posso chiamare riunione del 28 09 2021 e in questa sezione scrivere un recap della riunione e qua sotto inserire il mio contenuto quindi i presenti erano giuseppe e Anna e il recap è stato questo e quindi qua scrivere tutto il riepilogo della mia riunione è uno strumento per prendere note veloci potete fare delle formatazioni di base e facendo click su questo iconcina qui potete vedere tutto quello che è l'elenco delle pagine che potete creare all'interno del vostro wiki quindi se faccio click qua giù in basso su nuova pagina posso creare una nuova pagina magari per un'altra riunione riunione del 29 settembre e partire con un altro recap questo ovviamente è un esempio di utilizzo di questa funzionalità wiki lo potete utilizzare per inserire qualsiasi tipologia di contenuto testuale e non perché se fate click qua sul contenuto vedete che potete mettere anche un po' di formatazioni come vi dicevo dei link o magari anche delle immagini è una sorta di note rapide se volete invece note più strutturate potete fare click qua su più e aggiungere un blocco note one note one note a mio avviso è l'applicazione che è principe per prendere le note all'interno di microsoft 365 la trovate qui potete fare click su one note lui vi chiede insomma l'inserimento di un blocco note all'interno del tab e semplicemente fate click sul notebook che come vi dicevo viene creato in automatico ogni volta che create ogni nuovo gruppo all'interno di microsoft teams e ci create una nuova sezione le posso chiamare note di riunione eccolo qua anche in questo caso posso decidere se postare o meno un messaggio che avvisa i miei colleghi della presenza di questo nuovo tab all'interno del mio gruppo e anche in questo caso lo tolgo faccio save e lui mi crea il nuovo blocco note rispetto a wiki one note ha una marcia in più perché one note è uno strumento appunto di presa note ricche posso disegnare posso mettere degli screenshot ritagliarli mettere delle liste di attività posso fare di tutto e di più anche in questo caso vi consiglio di guardare sempre su office365italia.com il corso avanzato di one note online quello che vedete è appunto one note online incastonato all'interno di un tab microsoft teams se voglio poi aumentare il livello di collaborazione aumentare le tipologie di contenuto che io posso aggiungere nel mio gruppo di collaborazione con i miei colleghi ho sempre il tasto più che mi permette di aggiungere nuove funzionalità rispetto alla chat di gruppo che abbiamo visto inizio video qui ho molte più opzioni e qui insomma c'è veramente da sbizzarrirsi posso anche qui inserire il link a un sito posso inserire una reportistica che recupero da power bi posso inserire la mia istanza di planner per gestire i task con i colleghi del mio gruppo posso utilizzare l'ist che è un altro degli strumenti di microsoft 365 che mi permette di creare anagrafiche in questo video non andremo nel dettaglio di tutte queste funzionalità perché veramente dovremo stare qui giorni giorni un'altra funzionalità che però vi volevo dire sempre per quanto riguarda l'area gruppi è relativa alla possibilità di creare nuovi tab partendo da un file magari c'è un file che è molto importante viene molto visualizzato dalle persone posso fare click su questi tre puntini e scegliere l'opzione make this a tab fondamentalmente sempre tramite word online è possibile creare un tab che viene creato con il nome del file originale e avere un accesso rapido a quella che è la visualizzazione di questo file tramite l'area dei tab la navigazione qua su in alto è molto utile molto semplice si fa velocemente ritorno all'interno della mia area di conversazione e vedete che la mia area di conversazione contiene la conversazione che io ho fatto partire dal mio gruppo rispetto a una chat di gruppo che abbiamo visto prima l'area conversazioni di un gruppo teams ha delle funzionalità diverse anche per quanto riguarda la conversazione se vedete al posto dell'area di scrittura di un messaggio già aperta come avevo precedentemente ho invece un tasto nuova conversazione questo tasto mi permette di aprire finalmente l'area di conversazione perché è stato messo questo tasto perché è molto importante in un gruppo teams fare una netta differenza tra una nuova conversazione e una risposta a una conversazione già esistente se faccio clic qua su reply sto aggiungendo un nuovo messaggio a una conversazione che è già esistente in cui posso dire magari a Olivia sempre taggandola con la mia menzione puoi fare un check anche tu e come vedete all'interno di un di una singola di un singolo oggetto logico io ho il mio messaggio originale e poi tutte le risposte fatte dalle varie persone che hanno partecipato a questa conversazione se invece faccio clic su nuova conversazione e metto un nuovo messaggio sto fondamentalmente partendo con un nuovo thread con una nuova conversazione in questo caso vi volevo far vedere un'altra delle funzionalità relative alla conversazione di teams che riguarda sempre le menzioni in questo caso faccio chiocciola non voglio menzionare delle specifiche persone ma le voglio menzionare tutte allora faccio chiocciola inizio a scrivere il nome del mio gruppo vedete che lui mi suggerisce appunto di taggare l'intero gruppo in questo caso questa conversazione che viene creata come nuova conversazione permetterà a tutti di ricevere una notifica io posso identificare dal punto di vista grafico le conversazioni normali dalle conversazioni in cui sono stati in cui è stato menzionato tutto il gruppo perché appare questa iconcina qui sulla destra in cui appunto teams mi ricorda che tutto il gruppo è stato menzionato questo sempre per dare un'evidenza di un contenuto molto importante per le persone del gruppo in questo caso come vi dicevo facendo clic su un nuovo pulsante di nuova conversazione io posso vedere posso creare appunto un nuovo thread di discussione che è completamente distaccato anche dal punto di vista grafico dal mio thread precedente e vi assicuro che fare nuove conversazioni e usare nel modo giusto il tasto reply è una cosa diciamo una best practice che dovete utilizzare per quanto riguarda la collaborazione su teams perché altrimenti le vostre aree di conversazione diventeranno completamente illegibili un ultimo trucco che vi do è quello di creare una nuova conversazione facendo clic su questa prima icona che mi permette di formattare un po' meglio la mia conversazione e soprattutto aggiungere un soggetto nuovo piano di progetto è il mio soggetto e qui scrivo il mio messaggio nell'area file trovate il gant aggiornato e poi in basso per formattare sempre meglio il messaggio posso taggare le persone in questo caso taggo tutto il gruppo vedete com'è molto più ordinata una conversazione di questo tipo rispetto alla conversazione precedente il soggetto serve a dare il contesto del mio messaggio molto molto utile benissimo andiamo avanti e parliamo invece dell'area calendario molto semplice perché all'interno di quest'area io posso accedere molto molto velocemente e ve lo faccio vedere a quello che è la mia agenda il mio calendario personale è sincronizzato con la mia posta quindi se creo un evento qui da teams lo vedo poi su outlook o al contrario se creo un evento da outlook lo vedo anche su teams in aggiunta rispetto a quanto posso fare su outlook io ho la possibilità sia di creare dei nuovi meeting schedulati che poi finiscono nella mia agenda in cui posso invitare persone sia creare degli eventi live gli eventi live sono la possibilità di fare un live stream di contenuto all'interno della mia azienda o magari anche verso delle nuove persone se andate sul nostro sito internet.ai trovate all'interno dell'area guide una guida molto specifica su questa funzionalità vi consiglio di guardarla perché è una funzionalità molto bella se volete fare degli eventi dal vivo sia all'interno dell'azienda sia verso l'esterno quindi magari con clienti o fornitori o quello che volete in più c'è la possibilità di fare un meet now meet now è una riunione rapida una riunione dove velocemente io vedo posso creare l'area di conversazione audio video e invitare qualcuno a partecipare con me al mio meeting online ok e questo è molto semplice faccio clic su meet now scelgo il nome del meeting e poi posso far partire il meeting immediatamente oppure condividere il link magari con qualcuno dei miei colleghi per invitarli al meeting ok se invece scelgo di schedulare un nuovo meeting ho delle opzioni leggermente diverse rispetto alle classiche opzioni a cui magari sono abituato sfruttando Outlook per la gestione dei miei meeting posso mettere il titolo del meeting questo potevo farlo anche su Outlook posso mettere le persone che sono richieste durante questo meeting ma soprattutto molto carino è che io posso invitare l'intero gruppo in questo caso non qui queste sono le persone mi stavo sbagliando ma posso identificare in questo caso l'intero gruppo il mio gruppo e in questo caso tutte le persone che fanno parte del gruppo che io ho chiamato il mio gruppo riceveranno questo meeting ok il meeting di default è su Teams sapete che su Outlook io posso scegliere se avere il meeting su Teams oppure se non averlo quindi fare un meeting standard in questo caso se parto per la creazione dell'evento da Teams di default viene creato anche il link per accedere alla riunione online ok queste sono le principali differenze che vi volevo segnalare anche su Teams avete lo scheduling assistant questo è molto utile nel caso in cui inserite uno o più persone all'interno dell'area dei partecipanti del nostro meeting avete la possibilità di visualizzare quella che è la loro disponibilità secondo l'agenda che ognuno si gestisce in autonomia tramite Outlook oppure appunto tramite Teams esattamente la medesima ok benissimo in questo caso esco e quindi voglio cancellare tutte le attività che ho fatto all'interno del mio calendario ovviamente come in tutti i tool di gestione del calendario ho di default la visualizzazione sulla settimana posso anche vedere la visualizzazione agenda del giorno corrente oppure una visualizzazione della settimana intera completa cioè che contiene anche il sabato e la domenica bene andiamo avanti e vediamo l'area scusatemi l'area delle chiamate e sì perché Microsoft Teams oltre a permettervi di fare chiamate audio video tramite il vostro pc o magari anche tramite il telefono il cellulare perché come vi dicevo se installate l'app di Teams mobile potete accedere a tutte le funzionalità che abbiamo visto tramite il vostro smartphone potete far partire una chiamata audio video con un gruppo di persone fare un meet now con i vostri colleghi all'interno di un team di progetto però in aggiunta a queste funzionalità Teams si integra tramite appunto un sistema VoIP con dei device fisici quindi con dei telefoni fisici tramite cui io posso fare chiamate fondamentalmente è il ritorno alla cornetta la vecchia cornetta con cui io posso fare delle chiamate in questo caso vengono fatte delle chiamate tramite il VoIP questa però attenzione è una funzionalità che trovate sempre nella barra di sinistra che si chiama Calls in inglese chiamate in italiano e in cui che però potete vedere abilitata all'interno della vostra Microsoft Teams solamente se avete delle licenze specifiche di Microsoft 365 e sì perché non tutte le licenze di default di Microsoft 365 hanno questa funzionalità ok molto molto importante come vedete in quest'area mi si è aperta la barra di navigazione contestuale di questa di quest'area dell'area delle chiamate posso fare delle chiamate rapide proprio specificando il nome della persona che voglio chiamare oppure anche potendo scegliere il 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 suo numero di telefono in questo caso io provo a chiamare Anna e qui mi dà la possibilità di fare una chiamata audio video e in aggiunta adesso tolgo questo focus perché non riesco a uscire da questa interfaccia in aggiunta oltre alla possibilità di fare delle chiamate rapide io posso fare delle chiamate dalla mia lista di contatti oppure posso vedere la history delle chiamate che ho fatto tramite teams oppure posso vedere tutte quelle quei messaggi che ho all'interno della segreteria e sì perché ognuno di noi di default all'interno di teams ha una propria segreteria in questo caso io non ho messaggi però la posso impostare e in questo vale anche nel caso in cui io non ho licenze per fare le chiamate voip tramite teams ok vedremo dopo nell'ultima sezione di questo video come è possibile impostare una propria segreteria all'interno di teams andiamo avanti con le funzionalità di cui vi volevo parlare e vediamo come posso fare tramite teams l'accesso a i file è un accesso che trovo sempre nell'area di sinistra di navigazione del mio della mia interfaccia di teams si chiama proprio files in quest'area vedo una prima visualizzazione molto molto importante che mi fa vedere l'elenco dei file che io ho gestito di recente è molto importante perché questi file vengono diciamo recuperati sia dai gruppi teams in cui ho lavorato infatti vedete c'è il mio file word di test che ho caricato prima sia dal mio one drive personale sia magari anche da uno dei siti sharepoint in cui ho lavorato vedete qua ci sono delle pagine che io ho modificato all'interno di siti sharepoint presenti all'interno del mio microsoft 365 sia anche di file che ho aperto tramite la mia email e questa è una funzionalità molto molto bella un punto unico dove vedere tutti i file recenti vi assicuro che quando lavorate con tanti file magari non vi ricordate esattamente il punto del file la cartella in cui il file è stato inserito questa funzionalità è molto molto utile infine avete la visualizzazione di tutti i file che avete gestito tramite il vostro teams di recente in questo caso io ne ho solo uno oppure potete anche accedere a quello che è il vostro OneDrive personale ok in questo caso io non ho file però tramite sempre teams quindi mantenendo lo stesso contesto di navigazione io posso accedere ai file condivisi con altre persone oppure ai miei file personali i miei file personali in Microsoft 365 stanno all'interno di OneDrive OneDrive for business ok e questa è la funzionalità files di Microsoft teams andiamo avanti andiamo al prossimo capitolo e parliamo invece delle applicazioni abbiamo già visto la possibilità di aggiungere applicazioni di terze parti all'interno di un gruppo di conversazione oppure all'interno di un gruppo teams quindi un gruppo di collaborazione tramite il tastino più nell'area tab quella in alto adesso vediamo invece la possibilità di accedere a questo menu qui in basso a sinistra tramite cui io posso visualizzare tutto un elenco di applicazioni che vengono fondamentalmente da due fonti ben precise la prima è il Microsoft store di tutte le applicazioni che vendor di terze parti fanno per Microsoft teams se vedete una volta che accedete a quest'area apps io vedo un po' di link che mi permettono di accedere a tutte quelle applicazioni che sono popolari all'interno della mia organizzazione e vedete che qui ci sono un po' di applicazioni che abbiamo fatto noi personalizzate e un po' delle applicazioni che ci sono di default che ci dà Microsoft Microsoft oltre agli strumenti di Microsoft 365 come per esempio List che vi ho accennato prima Forms per fare i survey SharePoint per la intranet i Praze che è un alt scusatemi Project oppure Power Automate che sono comunque applicazioni presenti all'interno della suite Microsoft 365 Microsoft su Teams ci aggiunge delle piccole applicazioni che sono specifiche per essere utilizzate appunto magari all'interno di gruppi oppure all'interno di conversazioni una di queste è Praze mi stavo sbagliando prima Praze ci dà la possibilità all'interno di Teams di menzionare qualcuno e dargli una sorta di gagliardetto di fargli una menzione particolare anche dal punto di vista grafico all'interno del mio gruppo Teams e questo è un esempio ho l'applicazione un altro esempio la Channel Calendar che mi permette di visualizzare all'interno di un tab di un gruppo Teams quello che è il calendario che come vi dicevo viene creato di default quando viene creato un nuovo gruppo all'interno di Microsoft Teams e così come queste due ce ne sono tante alte in più sempre nell'area popolare ma le trovate anche all'interno di una di queste n categorie che trovate qui sulla sinistra ci sono tutte quelle applicazioni che vengono fatte da vendor di terze parti posso utilizzare Trello direttamente in Teams posso utilizzare per esempio un'altra un'altra conosciuta ecco per esempio YouTube c'è l'app YouTube che mi permette di visualizzare video di YouTube direttamente all'interno dei miei canali Teams e tutte queste applicazioni c'è per esempio quella di Acrobat per la visualizzazione e la modifica dei PDF e tante altre e tutte queste applicazioni vengono utilizzate per arricchire quella che è l'esperienza di collaborazione che io posso avere o in un gruppo Teams oppure in una chat privata di gruppo come abbiamo visto prima in più vedete c'è un'area specifica in cui io posso vedere tutte le applicazioni che sono state create per la mia azienda e creare applicazioni per Teams vi assicuro che non è così complicato questo ovviamente è un argomento diciamo più tecnico però vi dico che si possono creare applicazioni anche senza scrivere codice sono applicazioni che permettono di integrare magari delle aree di SharePoint online all'interno direttamente di Teams questa è una di queste se si apre speriamo perché è un po' che non la apro eccola qua questo non è nient'altro che un sito SharePoint che noi abbiamo creato con tutti i nostri videocorsi e che però vedete è fruibile direttamente tramite Teams all'interno di un'app specifica per la mia organizzazione e questa è una possibilità fantastica che tutti hanno senza scrivere codice per aggiungere del contenuto personalizzato all'interno di Teams in aggiunta applicazioni personalizzate si possono fare o con Power App che è una delle applicazioni che permettono di fare appunto applicazioni no code all'interno di Microsoft 365 oppure bisogna scrivere del codice quindi dovete chiamare degli sviluppatori come noi appunto vi volevo dare tutte le informazioni perché l'area apps di Microsoft Teams è sicuramente uno dei plus di estensione di quello che è l'esperienza di collaborazione all'interno della piattaforma le app che uso di più o che diciamo Microsoft mi propone le posso trovare facendo click su questi tre puntini questi tre puntini mi permettono di visualizzare sia le icone di menu di navigazione che non vedo sulla sinistra perché magari è una risoluzione più o meno elevata sia tutte quelle che sono le applicazioni che ho usato di recente vedete infatti che vedo l'area di formazione che abbiamo appena visto vedete che vedo l'area di OneNote che abbiamo utilizzato poco fa il wiki anche questo l'abbiamo utilizzato poco fa all'interno di uno dei miei gruppi in più vedo tutte delle applicazioni che Microsoft mi propone fondamentalmente un'altra molto carina ne approfitto l'ho vista per parlarne è l'app approvals tramite Teams io posso inviare ricevere approvazioni e gestirle in un punto unico fantastico approvazioni su documenti approvazioni su qualsiasi tipo di contenuto veramente veramente molto utile e di queste applicazioni io posso decidere di pinnarle cosa significa magari un'applicazione che utilizzo spesso come appunto OneNote posso fare tasto destro fare clic su pin e far sì che questa applicazione diventa parte di quella che è la mia navigazione principale su questa istanza di Teams adesso non la vedo sulla navigazione di sinistra ma se faccio un po' di zoom out vedete quindi è tutto un po' più piccolo dopo lo rimetto più grande se no non si legge niente però vedete che insieme alle icone di navigazione che ci sono di default su Microsoft Teams oltre all'accesso oltre all'accesso alla mia internet io ho potuto anche pinnare OneNote qui sulla sinistra ok molto 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 utile benissimo andiamo avanti e vediamo e vediamo scusatemi vediamo le impostazioni quali sono le possibilità che io ho di configurazione di Microsoft Teams all'interno dell'applicazione come vi dicevo le impostazioni le trovo qua su in alto a destra trovo sia un'area dove posso modificare qualcosa relativamente al mio profilo sia un'area nei tre puntini dove posso accedere a quelle che sono le proprio i settings le configurazioni di Microsoft Teams l'area del 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 profilo è molto carina perché posso fare due cose molto molto utili cioè prima di tutto selezionare quello che è lo stato del mio profilo Teams come sapete in pagina che lo sappiate per chi di voi utilizza gli strumenti di collaborazione di Microsoft magari anche quelli passati ma anche per chi utilizza Skype o qualsiasi sistema di messaggistica in questi sistemi moderni c'è la possibilità di vedere lo stato della presenza cioè io posso vedere se in un certo momento la persona è disponibile o meno ovviamente all'interno della mia organizzazione non posso farlo con persone esterne chiaramente e questo è utile perché se vedo una persona disponibile la chatto oppure la chiamo se invece la vedo nello stato non disturbare magari evito di scriverla con questo menu io posso modificare quello che è il mio stato quindi questo è uno stato che solitamente viene gestito di default da Teams ma tramite questa opzione io posso anche modificarlo manualmente vi ho detto che può essere che viene gestito di default da Teams perché per esempio quando sono su Teams sono attivo e lo sto usando diciamo in continuità ho lo stato verde se magari lascio il computer per qualche minuto senza fare più niente in automatico mi arriva in questo stato arancione in cui io sembro è andato via questo perché Teams si accorge che non c'è attività e allora mi mette away altri degli stati che non sono disponibili qui ma che vengono inseriti di default sul mio profilo sono per esempio gli stati relativi alla presentazione quando io presento un contenuto durante una chiamata audio video quindi magari sto condividendo il desktop sto condividendo una presentazione in questo caso lui mi mette lo stato presenting così chi mi chatta sa che in quel momento sto effettivamente condividendo lo schermo con qualcun altro questo è molto utile se invece voglio non so dei momenti di focus voglio non voglio avere rotture mi metto nello stato non disturbare e questo fa sì questo stato fa sì che infatti lui me lo dice subito che nessuna delle notifiche che normalmente ricevo su Teams e che quindi mi danno una sorta di alert non sono più visibili queste notifiche ovviamente il messaggio arriva uguale però la notifica non è più visibile questo perché mi sono messo in questa modalità di focus quindi non voglio essere disturbato altre opzioni sono quelle di busy che però comunque mi permette di ricevere notifiche oppure di stare offline questo perché magari non voglio farmi trovare dai colleghi in più posso decidere quella che è la durata di uno stato magari io voglio essere non disturbato ma solamente per 30 minuti molto molto utile sempre all'interno di questo di questo di questa interfaccia ho anche la possibilità di cambiare quella che è la mia foto profilo e il cambio di questa foto viene poi applicato su tutte quelle che sono le applicazioni di Microsoft 365 quindi la nuova foto verrà visualizzata anche all'interno di Outlook anche all'interno di SharePoint e di tutti gli altri tool ok andiamo invece al menu impostazioni questo menu è leggermente differente rispetto a quello che abbiamo nell'applicazione client questo perché nell'applicazione web di Teams due delle voci di menu più importanti sono quelle di scaricarsi l'app desktop per utilizzare Teams all'interno del proprio pc oppure scaricarsi l'app mobile di Teams sono due link rapidi per il download delle applicazioni in generale tra il desktop e il web non ci sono modifiche di funzionalità inizialmente il client di Teams era molto più rapido della parte web adesso invece c'è il contrario cioè l'applicazione Teams sul web va molto più velocemente rispetto all'applicazione client se seguite il mio canale youtube e i miei post su linkedin sapete che microsoft sta lavorando una versione 2.0 del client di Teams perché adesso è diventato veramente veramente molto lento in ogni caso io vi consiglio comunque di tenere acceso il client di Teams perché è molto lento però per quanto riguarda l'esperienza durante una chiamata audio video è comunque la scelta preferibile io uso il client web di Teams per tutto il resto per le chat per le collaborazioni nei gruppi per l'accesso alle applicazioni andiamo avanti guardiamo i settings che abbiamo disponibili all'interno di Teams prima di tutto possiamo scegliere quello che è il tema grafico abbiamo tre opzioni quello di default che avete visto in questo video un tema più scuro e un tema ad alto contrasto in più possiamo scegliere quella che è la lingua con cui io visualizzo Teams e sia con cui diciamo lo visualizzo sia con cui posso diciamo fare il typing delle informazioni sia con cui visualizzo tutte le informazioni relative alla currency e che ha il formato delle date quindi al mio calendario in più ho la possibilità di mettere un out of office come vi dicevo prima Teams e Outlook sono molto connessi fra di loro posso accedere al calendario posso mettere l'out of office direttamente da Teams poi abbiamo l'area account l'area account mi fa visualizzare tutti gli account che io ho inserito all'interno di Teams questa è una funzionalità che è un po' nuova non c'è da tanto mi pare un mese o poco più perché da poco Teams permette di inserire in una stessa istanza quindi nella stessa applicazione sia un account di lavoro come questo che vedete qua sia un account personale tramite un Microsoft account quindi per esempio gli Outlook.com gli Outlook.it i vecchi Hotmail diciamoci per chi di voi diciamo si ricorda ancora questo questo grande sito e ecco qua posso vedere gli account che ho che ho inserito ok poi abbiamo una una sezione privacy posso decidere quando sono nello stato di non disturbare quello che abbiamo visto prima posso decidere che magari qualcuno dei miei contatti ha un po' l'accesso privilegiato quindi nonostante che io sia in non disturbare se mi contatta una delle persone che inserisco all'interno di questa lista riceverò comunque la notifica in più posso scegliere quali sono i contatti che voglio decidere di bloccare cioè che non vedono la mia presenza che non mi possono né chiamare né né chattare e questa è un'altra delle opzioni di privacy disponibili in aggiunta posso decidere se voglio far vedere agli altri quando leggo un messaggio questa è una funzionalità che Teams ha ereditato da Whatsapp diciamocela tutta ed è molto visibile nell'applicazione client nell'applicazione mobile scusatemi nel client e nel web non è così tanto visibile e qui posso decidere se abilitare o meno questa possibilità in più posso decidere se abilitare o meno il fatto che Microsoft mi coinvolga in dei service sulla valutazione del prodotto infine ho la possibilità di gestire quelle che sono le notifiche all'interno dell'applicazione posso decidere se far vedere o meno dei cioè far sentire o meno dei suoni quando ricevo una notifica posso decidere di ricevere notifiche per qualsiasi attività o solo per menzioni e risposte che vengono fatti sui miei thread e poi posso decidere di gestire in maniera atomica le notifiche per la chat per i meeting per la parte di persone cioè posso essere notificato da Teams quando magari un mio collega va online perché non so lo sto aspettando o comunque mi è utile sapere se è online o meno e allora posso decidere che Teams mi avvisi con una notifica quando la persona arriva online o va offline queste io non le abilito di solito perché sono un po' invasive però ci sono dei casi d'uso per cui sono ovviamente utili infine abbiamo la possibilità di scegliere sempre per quanto riguarda la privacy infatti questo settings l'avrei messo un po' più in alto devo dire la verità ho la possibilità di scegliere se farmi riconoscere dal sistema di transcript di Teams durante cosa significa una delle funzionalità di un che ha Teams ci permette durante un meeting di salvare in automatico il transcript cioè quello che le persone dicono si sceglie la lingua del transcript e Teams in automatico in base a quello che è l'audio che sente e quello che si dicono le persone genera un file di testo che contiene tutto quello che si sono dette le persone e con questo setting io posso decidere se identificarmi o meno durante questo transcript perché il transcript viene generato proprio col nome e cognome della persona che ha detto la tale frase questo ovviamente è molto utile quando si fanno riunioni però ovviamente è una configurazione che va a toccare quella che è la privacy della persona che può decidere di non rendersi visibile all'interno di questo transcript infine ho delle configurazioni relativi alla parte di chiamate posso decidere di fare un forward delle chiamate cioè qualsiasi chiamata mi arriva io la mando a un'altra persona posso decidere cosa succedere quando non non rispondo quindi non succede niente oppure parte la mia la mia segreteria posso anche configurare la mia la mia segreteria posso decidere il la suoneria e poco altro ok queste sono le funzionalità di configurazione che ha Microsoft Teams benissimo io con questo ho finito vi ringrazio per essere arrivati fino a qui perché è un video comunque ormai molto lungo siamo arrivati praticamente a quasi un'ora e mezza di video come vi dicevo andate all'interno del sito office365 italia punto com trovate video corsi specifici sia per Teams sia per tutto il resto degli strumenti che ci sono all'interno di Microsoft 365 io con questo vi ringrazio vi ricordo di fare subscribe al mio canale YouTube e di seguirmi su LinkedIn per vedere nuovi video come questi e soprattutto per stare aggiornati con quelle che sono le novità di Microsoft 365 come ultimo disclaimer vi volevo ricordare che ogni mercoledì del mese sempre sul mio canale YouTube o sul mio account LinkedIn facciamo dei live event delle live in cui vediamo quelle che sono le novità di Microsoft 365 e soprattutto abbiamo diciamo un'occasione per fare domande per scambiarci informazioni sull'utilizzo di questi tool della piattaforma di collaborazione di Microsoft grazie a tutti e ci vediamo alla prossima